vogliamo dire a tutti buon natale buon natale cari con i cittadini termonesi più sinceri e affettosi e curi di buon natale spero sinceramente che ognuno di voi possa trasformare queste attività natalizie in pace e serenità con i prodotti bambiniani cari con i cittadini vi auguro un buon natale un sereno natale e che sia un anno questo prossimo migliore dell'ultimo tanti auguri ok mi fermo un attimo sono in macchina volevo inviare questo video a tutti i confratelli per rinnovare gli auguri di un sereno e santo natale nonché un prospero anno nuovo è sempre un vero piacere e gioia per me fare gli auguri quest'anno tutto il nostro movimento è stato impegnato verso le zone terremotate con una concreta presenza di volontari grazie grazie veramente di cuore per la vostra disponibilità e per essere stati sempre uniti e determinati grazie ancora che dio me ne renda merito buona giornata immagino un mondo senza violenza buon natale a tutti voi happy christmas auguri di buon natale e felice anno nuovo a tutti i termolesi nel mondo che questo 2017 ci possa portare tanta gioia amore salute e fortuna auguri a suoi faccio gli auguri di un buon natale e un felice anno nuovo a tutti i termoli tv sono qui questo pomeriggio per augurare a tutti visto che ormai ci siamo il natale e alle porte voglio fare tanti auguri di buon natale e buone feste ma non solo perché la vita è una ricordatelo sempre quindi divertimento sempre con la testa sulle spalle rispetto dobbiamo volerci bene sempre ogni giorno ok mi raccomando mi raccomando io sono sempre positivo e quindi niente tanti auguri di buon natale buone feste per te tutti gli amici di termoli tv tutta la gente che ci conosce e tutte le persone che amano la vita ok quindi ciclo di impero tanti auguri buon natale e tre sono le cose fondamentali sorriso grinta e dalle ritmo alla vita quindi ascoltate tanta musica caricatevi di positività ok mi raccomando sempre nel cuore andrea un abbraccio attacca comodice l'associazione sorride sempre a onlus e dei ragazzi del centro socio educativo centro azione ciao e tanti auguri a tutti gli amici di termoli tv ciao e buon natale auguri a tutti gli sportivi ternolesi dall'ascadia termoli calcio a 5 auguri a tutti i cittadini auguriamo a tutti i cittadini un serenissimo natale e un del 2017 pieno di stelle auguri a buon natale buon natale finché avremo ancora la pace potremmo dire buon natale buon natale a tutti buone feste e per me il tv vi auguriamo un natale sereno e pieno di allegria a voi e tutta la vostra vita allora vi faccio gli auguri con una frase bellissima non esistono persone buone e persone che fanno bene ma ognuno dentro di noi sia luce che oscurità ciò che conta e da che parte decidiamo di agire e questo è quello che siamo buon natale ciao ragazzi guardate dove sono termolambia non sembra natale però oggi è natale vi faccio tanti auguri mi raccomando sereni di buon natale a tutti quanti dalla vostra miss voglio bene ciao